Siamo qui con Francesco De Capitani, premietro della Robbussaronno, questa sera sconfitta esterna a Cecina 80-79. Gara 2, adesso sarà gara 3, la bella, la decisiva. Francesco, che cosa è mancato questa sera? Questa sera è mancato partire subito con aggressività difensiva, al contrario loro, e in seguito si è ritrovati a rincorrere per tutta la partita. Un momento decisivo, la palla non è entrata. Complimenti a loro, ci vedremo a Salanno l'8 giugno per gara 3. Bene, allora grazie.